ciao a tutti oggi è 9 agosto siamo in val d'aosta siamo torgnon località in che località siamo qui torgnon è giù ma qui siamo località io sono estracomunitaria non so la zona come si chiama sono foresta allora andiamo a Gorzà prendiamo quella noi dobbiamo andare noi dobbiamo andare alla chiesetta di Gillarday centuario non è una chiesetta diciamo ciao cara dopo tanto tempo almeno vieni tanto oggi mi hanno dato una giornata di libera uscita dopo qualche titubanza abbiamo trovato il sentiero che ci porta al santuarietto una parte del monte rosa quello è la coppa di roletto è bello che potete essere curiosa così testa Grigia ciao 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 Andrea, ciao Giorgio. Buongiorno. Sigeramente istimulare. Ressi. M Ressi. M Ressi. M Siamo arrivati a un divio, noi teniamo la destra per Gidari, il santuario di Gidari, o chiesette di Gidari. No, 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 non è quello lì! Divio, abbiamo violato a destra per Brusonelli. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.